Giuseppe Vitali dell'azienda Renor Cino, veniamo dalle Marche, da una legalità che si chiama San Ginesio in provincia di Macerata. La nostra è un'azienda che esiste dal 1957, è la terza generazione, siamo quattro fratelli, io, Giuseppe, Massimiliano, Giovanni Luca, Giampiero, con il supporto di nostro cugino Stefano, che seguono tutte quante le fasi della lavorazione, dall'allevamento del maiale, che è la nostra attività principale, fino alla produzione dei salumi, salumi che primo su tutti è il ciauscolo, che è il salame tipico dell'entroterra marchigiano. Noi facciamo parte dell'Accademia 5T, che ringraziamo perché ci ha dato l'opportunità, primo di tutti, di essere qui al Vinitali, secondo comunque di continuare, anzi accelerare, nel percorso di miglioramento e nella direzione di fare prodotti sempre legati a quello che è la filosofia dell'Accademia, quindi al territorio, alla tipicità, alla tradizione, alla tracciabilità del prodotto. Dicevo prima il ciauscolo, il ciauscolo è un salame tipico dell'entroterra marchigiano, noi abbiamo una versione che si chiama Campagnolo, che si è aggiudicato, diciamo, negli ultimi due anni, miglior ciauscolo al campionato italiano del salame, è un salame antichissimo, il nome deriva dal latino ciauscolum, è questo prodotto che voi vedete, che è il Campagnolo, che è un salame spalmabile, da spalmare sul pane, è un salame che veniva portato dagli antichi romani nelle missioni di conquista. La nostra missione è quella di far conoscere questo salame il più possibile in giro per l'Italia, perché è un salame molto legato al territorio, ma purtroppo rimasto ancora troppo all'interno dei confini del territorio marchigiano e anche attraverso l'Accademia 5T contiamo di promuovere questa tipicità del territorio dell'entroterra marchigiano.